In questo numero Riorganizzazione del sistema sanitario regionale Sanità, ricevute due delegazioni sindacali Giornata del volontariato 40 anni di notizie Il taccuino In apertura di seduta il 26 marzo il Consiglio regionale ha commemorato il cinquantesimo caduto in Afghanistan il sergente Michele Silvestri della Brigata Garibaldi L'Aula ha poi proseguito con la discussione sulla riorganizzazione della sanità anche nella giornata del 27 marzo con l'approvazione del disegno di legge 174 che istituisce sei federazioni sovrazzonali I lavori sono continuati il 28 marzo con il confronto sulla delibera inerente il piano socio-sanitario